musica 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 hai detto che ogni volta che vieni alla Renile Reload lo trovi sempre più bello che cosa hai trovato questa volta di speciale nel pubblico della Renile? beh, intanto erano molti, proprio tanti poi c'era il mare è iniziata l'estate insomma adesso è un test, ritmo napoletano musica 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 è che devi cominciare il concerto con le luci con la luce del sole ancora sì, poi abbiamo fatto il soundcheck al tramonto sulla spiaggia meraviglioso, chi vuoi più di così? dai grazie guarda Marcella per la camera di Pietro Dario me la dai un attimo li voglio riprendere li voglio mettere io su Youtube noi facciamo cambio grazie grazie il tuo disco L'Essenziale che cosa porta in giro come concetto? porta il concetto appunto di un ritorno un po' anche alle cose non troppo superflue che questo tempo ti vuole imporre continuamente cioè sei quello che hai, quello che possiedi poi alla fine ti perdi così finisci poi per diventare schiavo di tutte queste grandi cazzate e una scena si è spesa l'Essenziale è vicina da bere qualche cosa buono da fare o almeno da dire per non restare a guardare l'Essenziale l'Essenziale è provare a dare meglio perché a dare il peggio c'è sempre tempo e infatti come lei è tornato un bello che non mi piace che non mi piace che non si può che non mi piace un bello d'un po' anche Grazie a tutti Grazie a tutti